direi abbastanza goloso anche questo icona ok walk out walk out ma troppo bello De Jong bello raga bellissimo frankie De Jong De Jong questo è bello steve steve ho faccio scu'la faccio scu'la ci serve il knock out stage ci serve il knock out stage magari si magari magari caspita una settimana era soltanto sti knock out stage solo una settimana comunque davvero dovrebbe arrivare già a Roe Breaker dovrebbero già arrivare a Roe Breaker in teoria vediamo cosa uscirà oggi oggi esce dovrebbe arrivare il buon Dan Schum Dan Schum ragazzi ah era notta al contrario questa vabbè l'importante è che ti fa scu'la le nuove come la uh Anthony c'hai uh bello Anthony stava sotto eh peccato che non te l'ha droppato One to watch peccato eh One to watch sarebbe stata una bella hit peccato perché quello insomma è un paio di upgrade fino a dicembre di prende insomma un paio di upgrade due o almeno di prende insomma di prende tutta la vita tutta la vita con 188k che campionato mi faccio ma io mi sluncherei tranquillamente la 280.000 io farei tipo una bella serie A vorrei fare una serie A e via secondo me è tanta ma tanta roba una bella serie A e via facile che cos'è portoghese non ti preoccupare Dani ci mancherebbe altri ma c'era tipo c'era tipo un postiglia di un knockout da quel 100.000 l'ho avvertito e poi c'abbiamo anche l'altimate e poi c'abbiamo pacchetti abbastanza interessanti eh abbastanza interessanti ma figurati Dani ci mancherebbe altri pacchetti abbastanza interessanti eh e ti ah bravo Alfio adesso basta di fare la sub non ci vuole niente una cavolata vi mandi una volta che fate la sub vi mandate il vostro nome di ps nome è twitch e vi faccio un ganso a fare un sacco di goz molto easy vi mandi il doppio gruppo facile facile 65 appa che scuola ti fai? fai punto schermativo Siria guarda la scuola nel video e ben ottengo all'andello if un pacchetto a 50.000 dai ok che è questo no no vabbè aspetta 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 manco brutto eh mezza vota in due assist un gol manco male questo costicchio eh 100kz sotto all'ossa ste vologius eh rushford pure nel pacchetto vabbè qua voglio anche se anche se anche se no niente me lo do eh non me lo do inglese ti di Arnold Arnold dai 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 beh oddio mazza che premiozio mazza che premi stevologius mazza che premi devo dire becca di ricerca di knockout stage vai vediamo un po' si deve comunque sbagliare prima o poi comunque eccolo eccolo ok 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 già va bene con Moreno già va bene con Moreno ragazzi già va bene con Moreno nei draft ho messo i due giocatori però la torna non è male è una bella carta è un bel esterno quella quella figna nel gruppo sabato ho trovato Messi eh l'ho visto si l'ho visto oh l'ho visto l'ho visto quel Messi mamma mia mi sono sentito male mi sono sentito male quando la sera apre il gruppo degli abbonati con le vostre sculate ragazzi mi sento male sì mi sento veramente male tabella che questo italiano è strano adesso Berardi buono per i miei pure il buon Berardino Berardi e Gimenez ok questo buttiamo giù via si pago subito ha vinto il il no giusto 87 il no sì infatti ce l'è il no è vero grazie gentilissimo tedesco dc questa è una busta di bontà e i saban il vantaggio di entrare nel gruppo dedicato agli abbonati free talk dentro quello free talk c'è anche quello solo trader quindi potete fare compravendita consigli di squadra anche in live quando volete emotico niente pubblicità e per tutto il resto punto sgrattivante di sub e cos'è c la porta ok va bene beh se vuoi se vuoi vendere per fare i credit di fare magari una squadra a pistole fallo volare e tanti saluti se vuoi farti la squadra si sta vai tranquillissimo fallo volare via per il mio papone cosa faccio shop invitami invitami che l'apriamo chi è questo qua il buon Kovac si se volete volentieri ragazzi invitatemi tanto io sto qua figurate erano sotto a casa si 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 mi ricordo mi ricordo mi ricordo che ti grazie mille per il mio papone ti apri un po' di pacchetti un po' di pacchetti che gli ho messo ieri non ci credo messi un E8 pazza quanti walkout anche il bel Lukaku qua ragazzi per invitarmi devi andare nella sezione party dove c'è la barra di ricerca scrivi King di Giove 95 e tanta roba scrivi in privato e invece metti un accordo con streaming e allora no vabbè tranquillo devi imparare un pochetti il gioco un po' alla volta un po' alla volta a base un po' alla volta scarta quel Lukaku scarta quel Lukaku attenzione tabella vedo un po' di Milan in chat Bauman 83 compro Vinicius oppure Salah Vinicius vabbè Vinicius a sinistra Salah a destra dipende che ti serve a te comunque se hai disegnato magari l'estero sinistra prendi Vinicius ricordatevi ragazzi che quest'anno non potete giocare con un gioco di un punto esclamativo mi raccomando certo Vinicius mandami la squadra magari si è abbonato che te la guardo subito mi raccomando mandami sempre la squadra quando volete per Pachetà quando uscirà quanto costerà Pachetà domenica ma quanto costerà non credo più di 150k credo eh Rossetti il proprio principale se qual è è che quando dici mediani non è offensivo non è cioè non deve essere offensivo su te che a Vinicius si è abbonato è per quello ti dico capito c'è KDB o lo giochi in mezzala perché lui è fortissimo a livello di passaggi però deve giocare in mezzala capito se vi si dica non esco no si domenica potrebbe arrivare ho domenica lunedì penso che lui dico scusami Marco Re vai tranquillo ma vengo subito e si devi andare nelle sue parti fai King G95 scrivi King nel mio nome e mi invidi molto easy un interista non sape in chat chi è che non ha la sub ad interista in chat uscita l'ho scoperto uscita l'ho scoperto metto a fare i crediti devi devi fare i comprati nel gruppo degli abbonati quanto potrà costare Bremer massimo 70.000 70.000 70.000 altro pacchetto devo 2.000 dati in parti bravissimo esattamente bravissimo basta cdc che è questo qua Alan quando me lo so anche adesso potresti anche lavorare adesso Sonaldovic Remi Rex mi è venuto gentilissimo anche tu sei inter vedi 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 pacchetto primo pacchetto di su teleconcetto ma non c'è la squadra se carico Roby se già carico bestia lo bocca lo bocca signori la bocca se mi dite forza mila mi regalo la sub ah caspuno questa è una provata l'ore non è ancora vince quando vuoi dai ti aspetto ti aspetto attenzione che cos'è tabella non è insomber insomber non è portfavra chi è Stanley chi sarebbe Tony chi sarebbe forza grande guitar tu sei grande 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 attaccate massimo 200.000 credit rushford metterei grazie benvenuto gentilissimo mitrovic ok la puntiamo sopra andate su casa lavora per fare la polera come si è brutta è mal stavo sfondando la madonna mia aspeci lei è tu che stai lì a berga a brescia sì a brescia tu eric giusto figurati king ma tu non sei di taranto certo che sono di taranto no alcuni l'hanno detto il king il king il king 92 lorenzo vedile vedile allora allora è tanta roba ma se è taranto o sei fuori se è taranto o sei fuori ah il buon afili a 79 è goloso cd def 5-5 top è un bel giocatore no devi invitami da tanti impatti brother l'amicizia al quarto mese di sub brescia è te immagini figurati è l'ardio sei vicino ai server comunque sei molto padrone di sconnessione mamma mia invece più una belli questi qua comunque questi sono belli di oca ragazzi è più un un giocatore che ti crea il gioco ti fa il passaggio però quello che ti ne scape la punta oh un cucu sa pure guarda che pacco c'è l'armo un pescezio e un cucu mamma mia ragazzi devasto devasto walkout francia no ma to ben zimano però caspita 130k di players questi ben zimano 130.000 gradi mezzo c'è pure la libertà di 5.000 gradi in questo panchetto frate te lo sbancato di brutto te lo dico ti ho fatto fare il il devasto tale brasilio attaccante ah ho capito il buon jesus il buon jesus martinez ci posso anche stare ci posso anche stare sì eeeh ci posso anche stare devo dire tanto no bet che cos'è tabella tabella il buon ed in cieco il buon ed in cieco facile allora visca antonio ok ok direi tanta robetta se c'è stato via point vediamo cosa c'è da questo panchetto beh però dai non è in onesto dai il mondo abbiamo trovato fernando il mondo abbiamo trovato sì il mondo dai io allora voi scrivete scrivete a delione non mi preoccupate ragazzi lo sapete lo sapete ma vediamo cosa c'è da questi altri panchetti dai questi panchetti qua facciamo i seri signori facciamo i seri no niente non non ce l'ho troppo ragazzi non c'è sanchez facciamo i seri cerchiamo di scurare così devastante terzo panchetto dai dai comunque urgono i pick ragazzi urgono i pick boys ci vogliono i pick lunedì ci vogliono assolutamente i pick lunedì ragazzi ci sta poco da fare ci vogliono i pick and tots i lunedì ragazzi per forza che cos'è ok spagnolo ci vogliono i pick lunedì ragazzi picchè il buon picchettons il buon picchettons altro panchetto ci vogliono i pick ragazzi per forza amani bass ci vogliono i pick a farci casare ok questi cali buttiamo sopra perfetto andiamo con l'altro panchetto orari dai due giorni orari no niente quando me la troppa ragazzi uruguage portiere sotto ci potrebbe essere però una carta speciale magari no knock out e ci andiamo a casa contenti la scelta facile io ve lo dico così molto easy knock out e ci andiamo a casa ci andiamo magari ci andiamo a casa easy belli contenti ragazzi dei thomas dei thomas dei thomas eeeh ottimo ah il lavoro stanno a vecchetto anche ora bebe mica pacchetto no brutto per il sabato mamma mia brutto il sabato tedesco portiere dai ci può stare dai quando non vuol che lo vengono pure no eeeh raga vuol che non piace vendetelo si eeeh cartio addici di attacco di attacco ronato ronato tutta la vita ronato tutta la vita dalle 15 alle 22 la partita spero di vedere la lì ah vabbè dalle 15 alle 22 già c'ha già mezzo mano diciamo che è un po' la senata della godi dai vedi il nome squadra vieto schinga facciamolo sculare per favore facciamo le cose fatte bene facciamo le cose fatte bene eh su via dai ok un infetto iniziamo con un if iniziamo con un musiala iniziamo con un musiala ottimo ottimo eeeh figli di kree è forte figli di tif ma che non lo vai prendere tif eh il musiale è tanta roba lezzi beh lo metti la giusto per il meme eeeh ti fatti li sto prendendo la partita non sei riuscito adesso ti fai sempre ah ecco e si vede che il nolost hanno fatto zi evidentemente il nolost hanno fatto per quello per quello zi ah lo prendi online vabbè si va bene te lo fai con le carte eh con le carte ok te lo fai sdrucca con le carte no? si vabbè va bene si è la cosa secondo me la cosa migliore vai vai proprio easy vai vai proprio easy eeeh le mie canzone oh attenzione chi è? hero madonna ho flashato gli aia turea ho flashato ragazzi mamma mia gli aia turea avevo pensato ragazzi mamma mia non so per quale motivo non so per quale motivo donna mamma mia ragazzi costa da morio costa da morio mamma mia con di sotto bella roba oh bella roba blodi per favore riguarda l'account blodi per favore riguarda l'account questo è bello questo questo poter utilizzare è bella pancante questo eh coroso certo che ti li ha la got ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro cucciolo mamma mia oh bello 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 shuriken Luca devo dire che ti vedo bello casato bello cogliardico devo dire sulla break commento del catano di Twitch quello è forte pensai voltato a vostro lavoro poteva essere ieri a turea ragazzi mamma mia mamma mia male mi stavo sentendo sì male iscriviti al canale